Siamo arrivati a Pezzolo, un paese che si trova proprio sopra il ponte Schiavo, sopra Santa Margherita. Questo è un ristorante fatto nella villa del Giudice Langer, una ex villa che è stata utilizzata adesso come ristorante, è proprio alle porte del paese di Pezzolo che confina sulle montagne con i giampilieri, siamo proprio sopra i giampilieri. Questo è il paese arroccato sul costone di una montagna. Ormai siamo al tramonto, si vede ben poco, la strada è completamente invasa dal fango, comunque si passa. Il sostituto Langer è stato incaricato adesso dal procuratore capo di Messina di indagare su questo disastro. Il Giudice Langer è stato alcuni anni fa coinvolto in alcune inchieste sulla situazione messinese e da quel momento ha deciso di lasciare la villa qui di Pezzolo e che poi è stato trasformato in un ristorante. Questa nedo, Areando Corpo i Galli? Si av比如 XV, alla resterina abbia daペ low cardi di indagare del personale. 0 awad, Poi! 何 permane è stata trasformato in un ristorante... 24 milioni dei operazioni. ... ... ... Quella è la villa. La strada è crollata in diversi punti, comunque si passa con me. Di fronte a me c'è la Calabria, l'ultima parte della Calabria. La strada è crollata in diversi punti. 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 Fine della corsa.